buongiorno e bentornati dal vostro produttore di fiducia sono sempre io gianluca nella location estiva per parlarvi di peronospora nel pomodoro dell'orto va bene in quanto dobbiamo integrare i contenuti generali del canale ho parlato già del della peronospora però magari sotto il punto di vista della coltivazione in serra magari pomodoro invernale quindi tutta un'altra storia andiamo a vedere subito 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 per quanto riguarda il pomodoro nell'orto magari di primavera fino a fine primavera adesso siamo inizio estate ma andiamo a capire che il clima ancora è favorevole soprattutto se già abbiamo avuto problemi riscontrato problemi in primavera e ce la portiamo avanti anche inizio estate questa maledetta peronospora la peronospora è molto pericolosa come abbiamo già detto in quanto si diffonde velocemente molto velocemente è un fungo che vive nell'umidità però resiste anche a un certo livello di temperature per questo i problemi in questo periodo sicuramente la pioggia è forse il mezzo preferito a piano campo in quanto si bagnano tutte le le piante con la pioggia la fa diffondere schizza insomma si propaga velocemente la spora ma anche semplicemente nell'aria ok è molto volatile come spora quindi può passare da un campo a un altro se avete il vicino con la peronospora aspettatevi di vedere problemi anche nel vostro campo orticello quello che va bene quindi cosa possiamo fare sicuramente la prevenzione è come sempre l'arma migliore dobbiamo trattare a livello di applicazioni in polvere ho consigliato anche in altri video dedicati al pomodoro nell'orto a scusate prima di continuare io vi metterò sempre i video più interessanti nelle schede e i link in descrizione ok date sempre una controllata a tutto quindi la prevenzione tramite lo zolfo ramato che è semplice zolfo in polvere con l'aggiunta di un 5 per cento di ossido scusate non ossicloruro di rame va bene che diciamo che è un'azione doppia in quanto lo zolfo è molto idro repellente repellente insieme al rame fa un ottimo preventivo sia perché non fatto rimanere ecco non resta molta umidità nelle piante e sia perché proprio l'effetto del rame che va a combattere il fungo va bene questo come prevenzione già si può fare quando la pianta inizia dopo il trapianto non so se avete seminato quello che quando è intorno ai 10 15 cm già possiamo iniziare ad applicare una piccola quantità di questo zolfo ramato un pizzico signori a dare le dosi per questa applicazione così e nell'orto direi che è proprio una cosa difficilissima un pizzico potrebbe essere un grammo due grammi a piante una cosa del genere andate ad occhio va cioè non ne fa male certo è inutile abusare in più quello che andrà nel terreno pian piano acidificherà il terreno e farà solo bene per tanti punti di vista quello lo vedremo in un altro video già ne abbiamo parlato questo è come prevenzione e si può ripetere almeno ogni 15 giorni se è una primavera come quella che abbiamo attraversato direi anche una volta a settimana va bene magari non esagerare con le dosi quindi farlo una volta a settimana questo trattamento così applicazione in polvere bene questo è un preventivo ottimo poi sicuramente dobbiamo integrare sempre come preventivo dei trattamenti fogliari acquosi va bene noi i prodotti utilizziamo noi sono l'ho detto più volte sono a base per la peronospora molto efficaci a base di ossido rame oso che il famoso rame rosso detto anche e prodotti a base di propoli che fanno agire va bene lavorano in sinergia con il rame e lo fanno lavorare bene perché quello che veramente distrugge la il fungo la spora è il rame va bene però il propoli diciamo fa interagire tutto e rende questo processo molto più efficace e veloce soprattutto e anche molto più che il rame comunque sia consigliabile appunto per quello trattare la pianta bene perché è proprio un diciamo un velo protettivo giusto invece il propoli fa anche diciamo lavorare meglio lo fa arrivare anche dove non dovrebbe arrivare ecco per dirlo tutto in più anche il propoli asciuga anche quello quindi abbiamo anche lì un duplice effetto doppio vantaggio i prodotti utilizziamo noi come ho già detto ma lo ripeto sono per quanto riguarda l'ossido rame oso il prodotto si chiama venti b or metterò i link in descrizione e quello a base di propoli per l'utilizzo fogliare si chiama natural micro mf abbiamo parlato in un video ve lo metterò sempre controllato e ripeto mi dispiace devo essere un po ripetitivo però per chi vede un video l'ho detto già molte volte non sono mai video fini a se stessi sempre bisogna andare a documentarsi però per chi poi magari se guarda solo un video sul canale deve essere più completo possibile anche giusto così va bene e quindi con questi trattamenti a dosi a dosi basse se si può dire quindi a dosi preventive parliamo di due grammi 2 ml perché sono prodotti liquidi 2 ml litro per prodotto ok per il trattamento così in acqua abbiamo questo preventivo molto efficace in quanto l'ossido ramioso è residuale dura diversi giorni anche se ci sono piogge fra quindi il trattamento con lo zolfo ramato quello in polvere poi l'aggiunta settimanale di questo trattamento sempre preventivo se si può dire un dosaggio abbastanza basso perché 2 ml litro andiamo a capire che non è per prodotto in totale di un 4 ml litro non è un dosaggio elevato e abbiamo un ottimo veramente preventivo che se nella maggior parte dei casi se non è veramente una condizione esagerata di pioggia ruggiate quotidiane insomma anche tempo nuvoloso quello fa molto perché giustamente con il sole magari viene infastidito un po il come si chiama il fungo invece se non c'è sole abbastanza forte ci sono problemi va bene quindi così già dovremmo essere schermati non dico al 100 per cento ma quasi se ci sono c'è la comparsa preoccupante perché come abbiamo detto la peronospora quando appare appare in maniera vistosa se vediamo una foglia qui un fusto la una parte apicale da un'altra parte non ci dobbiamo preoccupare ma di solito quando appare la peronospora nel nostro orto in questo caso nel nostro pomodoro a piano campo si fa vedere quindi bisogna intervenire tempestivamente è molto rapida è molto rapida e poi si arriva ad entrare all'interno del fusto la malattia il fungo e va nel sistema linfatico della pianta ormai c'è niente da fare diciamo poco e niente da fare quindi quando vediamo c'è il pericolo di perdere l'intero praticamente impianto l'intera coltura di pomodoro andiamo a trattare subito anche in giornata ho fatto il preventivo due giorni fa per dire se c'è questo problema subito andare a trattare se possibile in giornata massimo entro le 24 ore perché ogni giorno che passa è distruttivo le dosi curative sempre di questi prodotti utilizziamo noi che ho citato poco fa sono 4 ml fino a 5 ml di natural micro mf e il rame si può ottenere anche a 2 ml litro ma direi di metterle anche 3 o 4 se la situazione è molto grave va bene quindi aumentiamo il natural il micro che è quello a base di propoli in quanto è un prodotto studiato ne abbiamo parlato in un video che troverete sicuramente nei link qui in descrizione è studiato veramente per fare agire e combattere le malattie fungine in generale ecco questo ora ci arriviamo però effettivamente il rame è quello che poi fa il grosso del lavoro va bene quindi possiamo aumentare diciamo raddoppiare almeno le dosi in pratica e questo intervento curativo se ci sono dopo una settimana se ci sono ancora problemi grossi dovrebbe essere ripetuto almeno un paio di volte va bene e dopo di che si salva quello che diciamo quello che la pianta che riesce a salvarsi proprio fisicamente la salviamo se qualche pianta non ce la fa è perché ormai era troppo compromessa quindi non può essere salvato in nessun modo benissimo e dopo ritornare con i trattamenti preventivi di nuovo quindi dosi basse fino a quando dice ma dobbiamo trattare l'infinito no perché a un certo punto si spera che con l'estate se abbiamo fatto tutto il processo come si deve con i preventivi come abbiamo detto all'inizio del video quando la pianta arriva alla fase matura quindi prima della dei primi frutti maturi si può smettere si può smettere ma lo deve dire il clima sempre la siamo perché ormai se c'è la spora in giro abbiamo detto anche nel campo vicino andiamo a capire che non possiamo abbassare la guardia fra l'altro sono prodotti che non hanno carenza si possono trattare anche quando c'è l'inizio maturazione si possono fare i trattamenti volevo dire ci capiamo ma scusate se qualche imprecisione dai sono un agricoltore un contadino perdonatemi se non sono un premio nobel va bene quindi stavo dicendo dulcis in fundo questi trattamenti non ci coprono solamente dalla peronospora che è sicuramente con la più insidiosa e più come abbiamo detto rapida ma ci coprono anche da praticamente tutte praticamente praticamente scusate se sono ripetitivo oggi non ho dormito bene quasi proprio e quindi ci coprono dalla muffa grigia dall'alternaria dalla cladosporiosi dalla ce n'è tantissime malattie fungine giusto tutte ecco è inutile che le nomino uno uno le ci copre da tutti va bene quindi vale la stessa cosa se andiamo a vedere delle ad esempio presenza di botride quindi muffa grigia possiamo fare l'intervento curativo però in questo caso ecco già vi do un altro consiglio per risparmiare in questo caso possiamo farlo localizzato dove lo vediamo e poi la muffa grigia sarebbe sempre meglio asportare la parte contaminata e toglierla seppellirla anche per la peronospora vale così meglio bruciare lontano dal nostro orticello va bene quindi spero di essere stato molto non lo so più esagustivo possibile riserviamo i nostri pomodori dalle malattie bruttissime come la peronospora e cosa aggiungere ovviamente siete liberissimi di commentare e chiedere quello che volete magari se c'è qualche dubbio o se ho tralasciato qualcosa o qualcosa non vi è chiara importante che fate i bravi picciotti abbiamo detto che dovete coltivare pomodoro con sostanze naturali per avere un orto genuino ok ciao a tutti e grazie